Torniamo a parlare di questa situazione che coinvolge i ragazzi, questa fragilità che li può portare a compiere dei gesti disperati. In che condizione si trovano questi ragazzi? Il bullismo della classe, i voti che sono andati male, le difficoltà domestiche, gli amici che non partecipano come vorresti tu alla tua vita, tante piccole difficoltà possono sempre essere gestite con molta apprezzione e a volte proprio con un senso profondo di disorientamento. Se ne viene fuori con il supporto prima di tutto della famiglia, poi della scuola, se c'è degli insegnanti che dovrebbero riuscire a cogliere segnali spesso anche molto sottili. C'è un modo per difendere questi ragazzi, per proteggerli in questi casi? Controllare internet non è facile, anche se le maggiori agenzie ci stanno provando in qualche modo. Parliamo di ragazzini, quindi un controllo dei genitori anche sugli strumenti che utilizzano, il telefonino, il computer, dovrebbe essere necessario? Sarebbe auspicabile, però ad onore del vero praticamente non è così semplice operare poi questo controllo. Dal momento che si dà un cellulare ai propri figli è chiaro che più un genitore è presente, più teoricamente almeno aumentano le probabilità che certi fenomeni non si verificano. Però la vita può essere abbastanza impegnativa da questo punto di vista e non permettere questo tipo di controllo. C'è qualche segnale che invece i più grandi genitori o gli insegnanti possono cogliere? Sì, guardi, ci sono i cosiddetti segnali d'allarme per il comportamento suicidario che sarebbe bene saper interpretare. Purtroppo in molti casi si interpretano quando è troppo tardi, dopo. Allora si ricostruisce, si capisce che magari quel dolore somatico che non si era mai presentato prima rappresentava un disagio vissuto a livello psichico anziché un mal di pancia, un mal di testa, che il ritmo del sonno, della veglia si era alterato e c'era qualche cosa che lo causava, che magari il ragazzo o la ragazza avevano cominciato a non fare più le cose piacevoli che facevano prima, le occupazioni che più li intrattenevano prima, che il rendimento scolastico era cambiato, che magari era cambiata anche l'igiene delle persone, il modo di starsi dietro, il frequentare gli amici preferiti, eccetera. Tutta una serie di cambiamenti rispetto all'abituale che dovrebbero mettere sul chi va là le persone. Ma ripeto, bisognerebbe avere antenne molto ritte e comunque una presenza molto continua al fianco del proprio figlio e questo non sempre è possibile.